È dedicato a William Shakespeare lo spettacolo d'apertura di Svelamenti, la nuova stagione teatrale e musicale del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Saranno Giorgio Pasotti nel ruolo di Amleto e Mariangela D'Abraccio nei panni della madre Giltrude i protagonisti di Amlet, l'appuntamento che lunedì prossimo, 28 novembre alle ore 21, apre la stagione promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Gambino e curata dall'assessore alla cultura Marcella Natale. Liberamente tratto da Amleto di Shakespeare con l'adattamento di Alessandro Angelini e Antonio Prisco e con la regia di Francesco Tavassi, Amlet offre uno sguardo contemporaneo alla famosa opera shakespeariana. Amleto è un personaggio molto attuale, un eroe moderno, dalla psiche profonda e complessa, che si trova ad affrontare una battaglia interiore prima ancora che con il mondo esterno. Insieme ai protagonisti principali sul palco ci saranno Claudia Tosoni nel ruolo di Ofelia, Gerardo Maffei nei panni di Re Claudio e lo Spettro, Diego Migeni in Polonio, Pio Stellaccio laerte, Salvatore Rangatore Rosengratz e Andrea Papale Gildersten. È ormai tutto pronto per dare ufficialmente il via a questa nuova stagione teatrale, commenda il sindaco Roberto Gambino. Iniziamo con importanti nomi del panorama nazionale e con una pietra miliare della drammaturgia. Grazie a tutti.